salve in questo video cerchiamo di affrontare un'altra questione che mi viene posta spesso sapete che Gesù a un certo punto nel Vangelo per esempio Matteo 12 31 fa un'affermazione terribile dice va bene c'è chi pecca contro il figlio pensate ai crocefissori di Gesù può ricevere perdono troverà perdono ma chi pecca contro lo spirito santo no non ci sarà per lui perdono in eterno allora tutti si spaventano un po e si chiedono cos'è questo peccato contro lo spirito santo allora due osservazioni prima lo spirito santo è la persona divina che Cristo sulla croce e con la sua resurrezione ha reso disponibile la nostra vita cioè quando noi viviamo in comunione con Dio lo spirito santo abita in noi ed è lo spirito santo che porta in noi il padre e il figlio cioè siamo in comunione con tutto Dio attraverso lo spirito santo dice san paolo no che lo spirito santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio cioè il punto di congiungimento tra me Dio e lo spirito lo spirito dell'uomo che si incontra con lo spirito santo quindi è fondamentale rompere il rapporto con Dio significa rompere il rapporto con lo spirito santo è un'altra osservazione non ci sarà perdono in eterno l'inferno esiste questi in questi video di cansao nova ce n'è uno che non so quante migliaia di contatti ha avuto perché poi i commenti non vi dico sotto perché rispondeva alla domanda se Dio è buono perché esiste l'inferno allora l'inferno c'è perché Dio è buono ribadisco siccome Dio è buono e ti ama ti vuole libero Dio non è un padre nevrotico che vuole togliere la libertà ai suoi figli Dio accetta di essere rifiutato Dio non ha creato nessun inferno l'inferno lo crei tu lo creo io quando rifiuto Dio faccio della mia vita un inferno e siccome la mia vita è una cosa seria è eterna questo può durare in eterno Dio accetta in eterno questo rifiuto sapete che la più grande sofferenza di Cristo nel Gezzemani non è stato tanto per sé ma pensare che tutto questo dolore che stava per affrontare non avrebbe potuto salvare tutti gli uomini perché qualcuno l'avrebbe rifiutato allora quali sono questi peccati contro lo Spirito Santo la Chiesa ne enumera sei sempre nel famoso catechismo che viene insegnato poco oggi spiegato poco in realtà sono cinque che preparano il sesto quello veramente decisivo è il sesto allora vediamo rapidamente quali sono disperazione della salvezza non per niente lo mette al primo posto Cristo è morto sulla croce per la nostra salvezza ha vinto la morte con la sua risurrezione non disperare mai della propria salvezza se uno pensa sono perduto non c'è più niente da fare si inganna la fede cristiana è fatta di tante cadute e di tante volte in cui il Signore ci rialza altrettante volte il Signore ci rialza uno pensa così quando guarda solo a se stesso quando dimentica che c'è Cristo il secondo presunzione di salvarsi senza merito se l'inferno non c'è se non c'è responsabilità delle mie azioni qualunque cosa faccio tanto Dio è buono mi salverà questo è un altro inganno Dio è buono ti rispetta se lo rifiuti non ti prende con sé per forza il terzo impugnare la verità conosciuta questo è interessante cioè la verità conosciuta è la fede cristiana quando l'hai conosciuta l'hai accolta significa far finta di niente per i tuoi comodi questo è grave cioè è la famosa doppia vita alcuni preti hanno la doppia vita cioè si presentano come preti davanti ma dentro fanno speculazioni finanziarie rubano i soldi hanno deviazioni personali sessuali gravi e lo fanno tranquillamente come se Cristo non esistesse impugnare la verità conosciuta ma non lo fanno solo i preti purtroppo invidia della grazia altrui il quarto uno ti fa rabbia perché è santo succede sempre ai santi padre Pio l'hanno combattuto in tutti i modi dentro la chiesa perché era troppo santo interessante questo è il peccato di satana che si irrita di fronte al bene il quinto l'ostinazione nei peccati quando vedi che una cosa è peccato ne abbiamo già parlato e preferisci non lasciarla perché ti dà dei vantaggi i tuoi figli soffrono a causa di quel peccato non ti importa nulla sei ostinato strascuri il tuo dovere tutti i giorni e questo produce degli ecco se ti ostini in quella cosa in realtà nessuno di questi peccati è decisivo ce n'è uno solo il sesto si chiama così impenitenza finale vi dicevo che a tutti gli uomini Dio fino alla fine concede la grazia del perdono se la vogliono c'è chi resiste c'è chi non la vuole l'impenitenza finale che è terribile la descrive Dante nell'inferno della divina commedia a un certo punto presenta un personaggio un personaggio mitologico capaneo si chiama un re antico greco che si trova su una sabbione su una spiaggia infuocata col fuoco che gli piove addosso e lui a non gli importa niente però è arrabbiatissimo bestemmia urla contro Dio in continuazione gli chiedono ragione di questo atteggiamento gli dice io a Dio non la darò mai vinta e commenta Virgilio che accompagna Dante ecco vedi perché per lui il fuoco non importa niente il suo maggior tormento è questa superbia orribile cioè non ha bisogno del fuoco dell'inferno per soffrire il vero inferno questa è l'immagine dell'inferno che ci dà Dante è questa superbia orribile con cui rifiutiamo la realtà rifiutiamo l'amore rifiutiamo la bellezza rifiutiamo Dio in nome del nostro io ecco questo è capaneo poi c'è un altro personaggio interessante nel purgatorio per fortuna buon conte di Montefeltro un poco di buono che ha fatto di tutto nella vita quando sta per morire arriva il diavolo per portarselo all'inferno ma in quel momento riesce una lacrimuccia una lacrimetta dice alla lettera Dante dall'occhio di pentimento e un angelo lo ruba al diavolo che rimane a bocca asciutta ecco basta una minima apertura a Dio per ritrovare la salvezza ecco che il Signore ci preservi sempre da questo peccato e ci dia amore a Lui ti benedica il Signore e ti protegga